amici di mondo blackberry.com sono geni smart 88 bomberman contro zombie questa quella versione free una delle due versioni per blackberry smartphone in questo caso qua parliamo del bold 99 ma è compatibile anche per altri modelli bomberman sta per bomba zombie ovviamente sta per il nemico che appunto sono i zombie in questo caso qua dicevo due versioni di questa quella free e c'è anche la versione premium che va a togliere gli spazi pubblicitari preimposti dallo sviluppatore andiamo su play noi siamo questo omino qui che sta scendendo in poche parole dovremmo con il tasto space mettere le bombe per uccidere i zombie una volta uccisi ci si apre il canale sottostante per andare nel nel secondo livello ogni fine livello venti ci chiederà di cliccare su una pubblicità magari ogni tanto lo facciamo per mantenere lo sviluppatore con i costi è tutto durante i livelli ovviamente ci saranno alcuni weapons da raccogliere quali ecco come appunto hai visto raccolti una lente di ingrandimento ci ha detto nei vari scatoli cosa c'è come armi da utilizzare per uccidere appunto questi zombie ci sono anche varie tipologie di zombie magari più lenti più veloci e appunto è un gioco molto carino che sicuramente ci farà perdere svariate ore di divertimento lo trovate ovviamente in app world in modalità gratuita oppure se siete stanchi di vedere le pubblicità sullo schermo a ogni fine livello a ogni passo che fate giustamente lo si può anche acquistare che dire è un gioco molto carino bello animato e ci si diverte per mondo blackberry.com genismart88 ricordandovi di iscrivervi al nostro forum www.mondoblackberry.com e di seguirci appunto sul nostro canale di youtube alla prossima grazie a tutti